Ed ora voltiamo pagina e parliamo di turismo. Sono già pronti i nostri inviati. Cominciamo dalla montagna che sta vivendo una stagione da record in diretta la nostra inviata, Laura Squizzato. Laura, dove ti trovi? Mi trovo nel bel mezzo delle piste dell'Ariaski Peio 3000, accanto alla Val di Sola, nel bel mezzo del Parco dello Stelvio. E guardate alle mie spalle, tra i monti più alti del Trentino, l'Hortless Cedevale. E proprio dai 3000 metri parte la pista che poi scende fino a qui, ci troviamo adesso ai 2000 metri, per poi andare verso Peio Fonti fino ai 1400 metri, quindi 7 chilometri e mezzo di pista davvero suggestivi. A proposito di panorama, guardate di fronte a me le Dolomiti di Brenta e poi sulla destra il gruppo Presanella e anche la Damella. Non so se si nota, ma qui nevischia e martedì è prevista anche una nevicata più importante. Quindi un modo perfetto per finire la stagione turistica con il periodo pasquale, una stagione con numeri da record. Infatti si contano 1.070.000 presenze italiani e anche stranieri che sono tornati a destagionalizzare appunto il turismo. Vedete oggi, adesso è l'ora di pranzo, quanta gente ha rifugio. E in particolare oggi c'è un gemellaggio tra Peio e Cattolica, quindi mare e monti. A voi la linea. Ebbene, quindi dalla montagna al mare, perché è una primavera anticipata quella che si riespira in diverse località marine. Noi abbiamo la nostra Federica Bambagioni che si trova in Toscana. Dove esattamente Federica? Sì, mi trovo esattamente alla Feniglia, una spiaggia bellissima nel comune di Orbetello. Sei chilometri di costa, un cordone di sabbia che con le sue dune e la sua riserva naturale attrae i visitatori tutto l'anno. Ma oggi in particolare il clima è più che primaverile. Fa caldissimo e in tanti hanno deciso di venire qui in spiaggia per prendere il sole, alcuni anche in costume, oppure per fare delle passeggiate. C'è chi gioca con i bambini, chi fa correre il cane. Abbiamo incontrato anche dei pescatori per hobby, sin dalla prima mattina. Qui c'è già un primo ristorante che ha riaperto in questi giorni. Il titolare ci ha spiegato che ha il pieno di prenotazioni, ma spesso deve respingerle, rifiutarle perché c'è una carenza di personale sia di sala sia nelle cucine. Molti altri comunque hanno deciso di fare un picnic e godersi la natura qui, respirare aria pulita e godersi questo mare bellissimo. Linea Roma. Ed ora andiamo a Spotorno, in provincia di Savona, dove oggi si celebra il Festival del Vento. Collegato in diretta per noi c'è Fabrizio Assandri. Fabrizio. Sì, sullo sfondo l'isola di Bergegio e nel cielo centinaia di aquiloni. Il Festival del Vento ha superato le 20 edizioni, quindi ormai è una tradizione. Ma soprattutto è anche un festival internazionale. Il paese ospite di questa edizione è il Giappone. Ci sono dei maestri giapponesi che hanno realizzato più che degli aquiloni, possiamo definirli dei quadri volanti. E poi ci sono le gare, le competizioni. Una di queste è far abbattere gli altri aquiloni, per esempio attorcigliando il filo dei nemici. Ma c'è spazio anche per l'impegno, perché ci sono degli aquiloni che rappresentano dei temi importanti. Per esempio un aquilone rappresenta la battaglia delle donne iraniane. La coda dell'aquilone rappresenta la ciocca di capelli tagliata via dalle forbici. E vi dicevamo appunto ci sono i gonfiabili, ci sono gli aquiloni singoli, gli aquiloni in batteria. Questo festival rappresenta l'avvio della stagione turistica con gli alberghi che stanno riaprendo. E da spotorne tutto restituisco la linea. Grazie mille случае. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.